A disposizione di mister Rudy Garcia, con il numero 28 Skoburski, con il numero 3 B.S., con il numero 4 Bradley, con il numero 7 Marchigno, con il numero 11 Tantei, con il numero 18 Cabrari, con il numero 20 Tallo, con il numero 27 Cervigno, con il numero 29 Burrisso, con il numero 33 Genaro.